Con il Rettore Maurizio Carboni di Porta Sant'Andrea una ricorrenza importante è quella di oggi? Sì, assolutamente, perché ricordano i dieci anni dell'apertura del museo, un fiore all'occhiello del nostro quartiere, un grande sforzo che fece con la dirigenza e tanti quartieristi che si adoperarono con azioni di volontariato per far sì che in pochi mesi il museo fosse inaugurato da quando poi il Comune ce l'aveva assegnato con il Sindaco Fanfani. Devo dire che a tutt'oggi è veramente uno splendore e sono e siamo orgogliosi di avere questo patrimonio. Come tanti musei ci sono dei cimeli veramente importanti, ne vuoi ricordare qualcuno in particolare? Sicuramente per quanto mi riguarda sono le lance d'oro e quelle conquistate in alcuni casi particolari sicuramente dalla prima volta che il quartiere ha fatto dieci nel 2008 a quella splendida giosta del 2015 nonché alla giosta che poi ci ha consacrato primi nell'albo. Senti Maurizio, per visitare questo museo che opportunità ci sono? Beh, chiaramente non ci sono dipendenti fissi che aprono tutti i giorni, però abbiamo un gruppo con alcuni consiglieri per cui basta contattare il quartiere attraverso il sito, attraverso il contatto telefonico e uno si mette d'accordo e verrà ospitato. Viceversa, quando invece ci sono in occasione delle fiere, spesso e volentieri la domenica viene lasciato aperto, quindi viene aperto di routine. Un'ultima domanda, ieri era un giorno importante per il vostro quartiere, a cui hai dedicato anche le scuderie, giusto? Sì, assolutamente, è venuto a mancare Franco Riccio, ormai sono passati 23 anni perché dal 1998 non è un caso che questo ambiente, intitolato a lui, è una persona che ricordiamo tutti con tanto affetto, con tanta passione perché ci ha lasciato veramente qualcosa di importante a livello umano e anche a livello di giostratore.